Sono onorato di essere qua oggi in questo Oriental Fashion Show, è per me la prima volta essere invitato da Hint, mi fa piacere perché essere a Parigi, sfilare a Parigi dopo che ho fatto a Roma mi fa molto piacere. Ho voluto presentare in questa collezione un quadro speciale proprio con dei ricami antichi palastinesi, con le linee del Made in Italy, con la raffinatezza. Essere a Parigi e anche dentro all'Uver sfilare questa collezione per me è un onore perché veramente Parigi è l'alta moda, la classe e veramente non ho descrizioni di essere qua.